I circuiti delle lampade evotive dei cimiteri non sono più considerati circuiti di segnalazione, perciò la sezione minima del cavo, essendo il circuito di energia, è 1,5. I componenti incassati, tubi, scatole, eccetera, non devono alterare le prestazioni di resistenza al fuoco. Sapete cosa vuol dire parete Ray? Una Ray 120. Resiste 120 minuti meccanicamente al passaggio di calore, passaggio di fumi, ok? Se ci andiamo a incassare dei tubi, cosa succede? Ora, noi li possiamo incassare, ma massimo un terzo se la parete è EI, massimo un decimo se la parete è Ray. Questo vuol dire che abbiamo comunque rispettato la norma, ma diminuito la resistenza di quella parete. Ad esempio potrebbe passare da Ray 120 a Ray 90.